Le mamme che vengono svegliate in continuazione dai piccoli per le poppate, per le coliche, quanto possono essere a rischio? Le mamme sono spesso le vittime di questo periodo affascinante, meraviglioso, in cui il bambino sta ancora cercando di trovare il suo ritmo naturale, e spero perenne per lui, di un'alternanza sonno-veglia che sia in linea con l'alternanza luce-buio della vita quotidiana. Però le mamme infatti a volte sono costrette a portare il bambino a letto e a dargli la poppata subcontinua in modo da evitare di doversi alzare mille volte, il giorno dopo essere completamente stanche, distrutte, e a volte anche sonnolente per colpa di questi continui risvegli. È chiaro che però lì bisogna stare un po' attenti perché poi il bambino in realtà forse non cerca neanche il latte, cioè l'alimentazione, forse sta cercando una tetta. E la tetta può diventare una sorta di oggetto che crea una insonnia cronica nel bambino nel quale non riesce più a riaddormentarsi senza questo oggetto transizionale che deve sentire sulle labbra, a prescindere dal contenuto o meno di liquido che gli arriva. Quindi anche lì le mamme andrebbero aiutate a gestire, dopo il sesto mese di vita del neonato, un rapporto più rigoroso, senza farlo diventare ansiogeno, nel rapporto di gestione del bambino che piange di notte.